Gradara, capitale italiana della cultura con Pesaro, intanto lo è tutto l'anno perché poi c'è un legame tra Pesaro e Gradara che non è solo territoriale ma anche di condivisione di strategie proprio di turismo culturale. Gradara è una delle mete di turismo culturale più importanti delle marche, vorrebbe dire l'Italia a partire dal castello ma anche delle attività che vengono svolte. In più assieme a Gabiccia e Mare abbiamo da anni la strategia della riviera di San Bartolo tant'è che anche la settimana di capitale italiana svolta da Gabiccia e Mare nel periodo pasquale insomma abbracciava programmazioni che teneva insieme sia Pesaro che Gradara e ora ci si concentra su questa perla insomma del Medioevo, capitale del Medioevo ma che ha saputo raccontare anche tante storie a partire da Dante sull'amore ma anche sull'attualità dell'interesse del turismo del bike ad esempio e anche delle mostre che vengono realizzate in particolare il Palazzo Visini ma anche con fotografia, incisioni, pitture, insomma un'esplosione di arte, di creatività che naturalmente non lascia indietro le negoastronomie. Gradara insieme al Comune di Gabiccia ha realizzato il progetto Festival degli Sguardi dove Gabiccia l'ha già presentato nel mese di marzo ed era il Festival degli Sguardi Primaverili Lo concludiamo noi con il Festival degli Sguardi d'autunno Che cosa proponiamo? Proponiamo delle visite nel Borgo di Gradara naturalmente al nostro museo MARV che è appena nato proponiamo anche un percorso attraverso un percorso naturalistico nel nostro territorio e c'è un tour inaspettato L'energia 7 alle ore 17 è organizzato dalla Proloquio di Gradara quindi si farà visita a quello che solitamente non si vede che sono le grotte scavate nel tufo a Gradara si parte da una grotta esterna molto bella dove un piccolo inciso queste grotte negli anni 70 erano tenute da un paio di ragazze che accompagnavano i turisti all'interno della grotta i turisti quando uscivano poi gli davano degli spiccioli ora sono chiuse naturalmente per sicurezza ma per l'occasione il venerdì ci saranno visitabili come saranno visitabili altre due grotte una proprio appena sotto la torre dell'orologio che è privata anche questa molto bella scavata nel tufo e un'altra all'interno del borgo presso un ristorante locale e questa sarà un'opportunità per poter vedere una Gradara segreta